Allora io sono Marco Scrona e signore e signori benvenuti nella Stoneblock 2 Questa modpack ve l'avete chiesto in 700 milioni di miliardi di persone Io ho sempre detto che era un modpack troppo semplice per quanto mi riguarda Senza un tema abbastanza interessante come potrebbe essere una manufaccio o qualche altra cosa Ho deciso però di portarvi in questo clima di Marco Scrona Sembra che stia rifacendo un video in più Un video domenicale sulla Stoneblock un po' diverso dal solito Senza webcam con molte parti tagliate soprattutto le parti di grinding Però per farvi vedere che hey questo pack è un pochino semplice Dunque non lo conosco l'abbiamo visto una volta e tanto tempo fa e l'abbiamo scartato Scopro di avere un pet rock che credo sia eccolo qua sto cosino qui Ciao che simpatico ti chiamerò pet rock perché non posso darti un nome Ok e sembra che sia timeable con forse questo Sì immaginavo d'accordo E adesso è il nostro Oh yes Faccio notare che cambia la faccia D'accordo forse ti segue non lo so Andiamo a leggere il libro del modpack Sembra un modpack Molto grindoso ma molto veloce perché Fluidco Chickens Ragazzi la mod della Chickens Mystical Agriculture Dragonic Evolution E infine Project E e però c'è anche la Avarizia quindi potrebbe essere comunque interessante Non lo metto in dubbio andiamo a vedere come si ottiene la Stone rompendo la Stone a mano Quindi se io rompo la Stone a mano ottengo i Pickles che in altri modpack si ottenevano diversamenti Però la devo rompere proprio a mano D'accordo Cosa interessante chissà se funziona è che c'è la Horse Cavating in questo pack Quindi io posso fare Non posso fare Non posso usare l'Horse Cavating Interessante a mano nuda Normalmente potrei farlo Abbiamo questo sistema di modpack Non è il mio preferito però Ne abbiamo 16? No non ne abbiamo 16 Ne abbiamo 8 Andiamo a romperne un altro po' Ce ne da all'incirca 2 ogni blocco rotto D'accordo Oppela E adesso ne abbiamo 16 Quindi possiamo prendere il rewardino Che è Totototot What? Sei serio? Sei serio? Cioè i reward sono a cazzo? Oh mio dio questo pack è assurdo Cioè Mi state dicendo che D'accordo Come si fa la cobblestone Immagino senza andarla a leggere Che si faccia così Quindi ragazzi 12 di cobblestone Let's go Ci dovremmo essere signori 12 di cobblestone Il nostro petrock sta fissando questo Per chi non lo sapesse Questa roba Non è super avanzatissima Però devo dire che È una roba abbastanza importante Random rework Ci da 4 speed upgrade Della extra utilities Molto interessante Non ho idea di che cosa sia questo Forse è soltanto per la mod del pet Ma davvero Non ci interessa Crafting time La crafting table Ragazzi secondo me si fa così Allora io ve lo giuro Ve lo giuro Non ho mai visto un singolo video Non ho mai aperto questo pacchetto Se non tipo 6 mesi fa E l'avevamo visto in creative D'accordo Però è talmente Talmente La palistiano Che va bene I change I change cube Allora Se questa fosse una serie Seria Io neanche li andrei ad aprire Cioè neanche li terrei in considerazione Ma dentro i change cube Ci può essere Qualsia Letteralmente Qualsiasi cosa Che ci permetterebbe Di lasciare il pacchino In una maniera Vergognosa Davvero Davvero vergognosa Quindi Li apriremo Considerate che se ci esce un wither Abbiamo perso il mondo Perché il wither ti distrugge tutto quanto Quindi Cobblestone chest Vabbè Immagino Ho fatto una fornace Oh my god Ho fatto una fornace Dibbi che era uno Ok D'accordo D'accordo Sono molto triste Devo andare a fare La vedi? Ogni tanto Dobbiamo andare a controllare Come si chiama Cobblestone chest Vediamo un po' Dove sei? Mia amata cobblestone chest Eccola qua Ah Si fa così So sad Play despacito Prima di fare una chest Però a questo punto Io sono andato a vedere avanti E parla di Uno stone hammer Che normalmente si farebbe Con gli stick In questo pack Non ci stanno gli stick Quindi Immaginavo Servissero Ci dava gli stick Di stone Quindi andiamo a fare La nostra amata cobblestone Gli nostri stick E facciamo Un stone hammer Che adesso ci dovrebbe permettere Di fare questo Ha bloccato davvero Malissimo Mie cari ragazzi La La earth cavator Sono un po' sad Sinceramente Andiamo a vedere Vediamo Qual è la mod Perché ce ne sono due di mod Che ti permettono di Cicciottare il cicciottabile Dragonic Mi pare che questa qui Earth cavator Eccola qua Excavate Oppure Mettiamo Zero qui Capital Io sto premendo Capital Shape Vediamo un po' No 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 Ha messo una whitelist Il Il nostro amico Come potete vedere D'accordo E lui senza Vabbè Giustamente Se no Lasciavamo Adesso Con il stone hammer Possiamo prendere Direttamente La cobblestone Che devo dire È un bellissimo Upgrade Spero che il nostro Libro ci veda Che abbiamo preso Lo dirtolo Ah Stone su cobblestone E cobblestone To get gravel Ah ah E poi E poi E poi la gravel Che cosa diventerà Miei cari Diventerà della dirt Ok Vediamo se E io qui sono curioso Se posso fare questo Yes Signori Ora Scavator Scavator Funziona In questa maniera Quindi signori Abbiamo L'ottima L'ottima dirt Molto carino Soprattutto il fatto Che non ci sia L'ex nilo Ci avvantaggia Due diamond Tier Di Della giabba Se devo essere onesto Ne avrei fatto Volentieri a meno Però va bene Com'è che si faceva La cestona Così Ok Che sarà un modo Di fare una cesta Però va bene Bam bam Abbiamo anche questa È tutto un po' grigio Se non avessimo mai trovato questo Però Ok Allora Sembrerebbe che in questo pack Come almeno dice La mia Questline Ah ma questa devo prenderlo Thank you Uh Roba interessante Roba molto randomica Cioè nel senso Non Sembra un po' a cazzo di cane Ecco questa Questo pacchetto Però vabbè Andiamo avanti Stone croc Lo stone croc Ci dovrebbe permettere Di fare Uh Ho dato per scontato Se si facesse così E invece no Si fa così Yes Stone croc Se rompiamo La dirt Otteniamo Un albero Va bene E poi ci dovrebbe essere La immancabile Per tutte le skyblock Le skystone Le skyfront La Meravigliosa mod Che non funziona mai Perché gli alberi vanilla Fanno schifo Oh Ok Ed ora ho della sand Fantastico Fantastico Non voluto Ma Fantastico D'accordo Quindi Riprendiamoci un attimo La nostra dirt Questo passaggio È abbastanza nuovo Per chi viene dal moddato Come me Mettiamola magari Qui Dove abbiamo un po' più spazio Qua Scendiamo di uno Così gli diamo Un pochino A sti alberi vanilla Un pochino di slancio Oh per là C'è l'autosalto Che devo assolutamente Disabilitare E Voilà Vediamo un po' Cresci Or dunque Mamma mia Se sei lento Oh Eccolo qua Guys Sappiamo il primo albero Ed è il primo mostro Molto interessante Ovviamente Grazie a The Reward Ci chiede Della legna E noi la legna Possiamo Possiamo prenderla Cioè nel senso Possiamo rompere la cazzotti Sì Bene Possiamo rompere la cazzotti Con l'or scavating Oh mio dio La risposta è Al 3 si si Quindi Fantastico Ne abbiamo già nove Ci serve un altro albero E let's go Abbiamo la legna Miei cari amici Ed è giunto Il momento Di Penso Non lo so Tipo essere felici I don't know No No Ok Ok Questa è una figura di merda Che ho fatto Però è abbastanza Nella mia indole Io non sono abituato Ai pack Che non ti registrano Il successo Della missione Cioè per me Dovrebbe darmelo In automatico Invece no Ma bastardo Ok Quanti ne abbiamo 16 D'accordo Adesso Ti rewardo Perfetto Ottengo 3 hopper Molto buoni E mi chiede di Prendere i silkworm I silkworm sono molto molto semplici Da ottenere in qualsiasi pack Sky o Skystone Perché effettivamente Questa Skystone Ragazzi È la Come possiamo dire La La bofonchiatura Maybe Di una Skyblock E niente Quindi andiamo a rompere Questo albergo Vedete Sebbene Gli Skyblock Fossero all'epoca Una enorme innovazione Adesso proprio Un po' diastice Perché abbiamo giocato A Sky Factory 1 A Sky Factory 2 A Sky Factory 2.5 A Sky Factory quella A Sky Factory quell'altro Quell'altro ancora E sinceramente Di Far crescere l'albero Perché ci serve più legna Per far crescere l'albero Perché ci serve più legna Dopo un po' Una persona si rompe Le balle Però Però Questo è La volontà del pubblico Mi avete chiesto In tantissimi Di far sto pack Io adesso ve lo faccio E ve lo ciusciate Signori Abbiamo Stiamo rendendo La Non ho mai capito Qual è il procedimento naturale Per cui le foglie Diventano cotone Però va bene Non facciamoci troppe domande E andiamo a vedere Se effettivamente Io posso Fare il mio piccolo E dico Posso farlo Quindi che cosa è Che mi vieta Nello specifico Miei cari ragazzi Dal distruggere Dal distruggere tutto quanto Adesso E avere già Una bella casetta Credo niente Vediamo Uh L'ha velocizzato Ecco Questo è lodevole Vediamo Ma Niente Allora Ha messo in whitelist Che pezzo di fango Ha messo in whitelist La La stone Ah Lo odio Va bene Va bene Va bene Ok di qua Devo dire Che questa è una piacevole sorpresa Abbiamo Delle infested leaves Molto molto più veloci Della norma Che possiamo rompere Per ottenere le string Con le string Si fa La lana E Dalla regia Vi dicono che si fa Anche il letto Quindi Wow Vabbè Andiamo a vedere di qua Ci da un reward La building gadget Oddio sì La building gadget Ci sarà Straussi Utile Sarebbe stato preferibile Quell'altro Ma va bene E di qua C'è la mia Amata e odiata Tinker construct Che andiamo a fare Nella sua forma più veloce Ovvero quella in cui Faccio così Sensile table Toolstation E Part builder Possiamo mettere Una Pattern chest Qui Ma in realtà Chi se ne frega Chi se ne frega Perché Perché Adesso Mi posso fare Un number di pietra Avevo visto Quando ho cercato Hammer Oh ma quando Sblocchi Sblocchi le cose Ti sblocca le cose Cioè lo so che È incredibilmente Tautologico Però No non posso farlo Non posso farlo I think Va bene Vediamo un po' Che ci da Il nostro amico L'hai registrata Grande Un altro Building gadget Io chiedo Scusate Chiedo l'aiuto Del pubblico Perché Scusami Dai Non è giusto Un altro Building gadget Va bene Di qua Vuole una Forge Stone Ma ragazzi La forge Da Tinkers Richiede La Ferro Di qua Il mining dimension Ci dice che L'overworld Non ha Hors È soltanto Fatto di stone Ah con questo è interessante L'unica Insomma L'unico modo Per ottenere Gli Hors È di scavare Fino alla cima Dell'overworld E teletrasportarci In una mining dimension Che è piena di Hors Ok D'accordo Da quest'altra parte Ci dice Classic Eeeh Ah C'è comunque L'ex Nilo Attenzione C'è comunque L'ex Nilo È un po' buio Questo pack Mi sa che faccio Delle torce C'è comunque L'ex Nilo L'ex Nilo Che C'è lo so che c'era Perché abbiamo fatto Delle cose Ma Non pensavo Che ci fossero I miei Amati e odiati Shiavesh Eccoli qua Shiavesh che io posso Anche fare effettivamente Ma se non ho Il mio mesh Che mi serve Tipo Ah no Posso fare il mesh base Vediamo che cosa Possiamo ottenere Con La dust Allora io Direi Di armarci Con Quello che abbiamo Andare nella Mining Dimension Ok E E aprire I nostri Change Cube Quindi Let's go Saniamo Boh Saniamo di qua Vado Un po' sconfitto Dalla Fatto che ho finito I piccoli Un po' sconfitto Dal fatto che L'altezza è 250 Io sono arrivato a 200 Mannagina Sono tornati indietro E ho deciso Di ampliare La nostra casetta Perché Magari Arrivando nella Mining Dimension Col piccone marcio Questo qui Magari vi trovo davanti A della redstone Potrei iniziare a fare Degli automatismi E invece no Perché non posso minarla Quindi a questo punto Sto farmando Un pochino di cose Allora Ho Non ho aperto I gang I change cube In questa dimensione Perché mi cago sotto Va bene Vogliamo dirlo Mi cago sotto Va bene Ok l'abbiamo detto Bene quindi sto facendo Un pochino di legna Come potete vedere Ok mettiamo Questi qui E questi qui Questo magari dopo Un giorno lo spostiamo Un giorno che non piove tanto Volevo Insieme a voi Andare a fare I sieves Abbiamo gli ivi Che sono molto interessanti E quello normale Quello normale Abbiamo bisogno Delle slab E A questo punto Io ne farei Un po' Tanti Tipo Non mi piace What the fuck Ah scusate Sono Sono un pirletto Eccoli qua Va bene Abbiamo fatti due Ecco qua I sieves Li mettiamo Quasi quasi Li metto Da questa parto Le Opera Madre Ragazzi Non vedo l'ora di avere Un piccone un pochino Più decente Perché questi qui Fanno super cagarissimo Ok Li mettiamo qua giù Ci vanno Vedete che ho fatto Le infested leaves Ci vanno Le strings Che ci permettono Di fare Eccole qua Le string Mesh E dovremmo avere La quest completata Se non sbaglio Yes Classic Perfetto Ci da altri change cube Mannaggina Mannaggetta Mannaggiona Va bene Va bene Va bene Cosa ci facciamo Con questa robetta Molto semplice Allora andiamo A posizionare Un bel po' Di cobblestone In realtà Con la building Gadget sarebbe Molto più facile Ma purtroppo Vuole l'energia Facciamo così Bam E otteniamo la gravel No Con la gravel Possiamo andare A smashare In più di uno Contemporaneamente È importante Questi materiali In non so che cosa Andiamo a vedere Che cosa ci dice La gravel Ci da Vabbè Ci da i minerali base Invece La dort D'ortolo Ci da Il ciborio Invece Landstone Ci da questo E tutto il resto È un Che ne so Magari c'è Togli il copper Metti il gold E così via La cosa interessante E io continuo A confondermi Con questo martello Non è Il martello Che scava 3x3 Ma è un martellino Schifoso Marcio Va bene Oppela Lo possiamo fare Molto più grande E inoltre Possiamo anche usare Compressed blocchi Che sono molto Diciamo una scelta Molto più intelligente Ah e Ho fatto le torce Ragazzi Fanno nella stessa maniera Del vanilla Cosa sono i compressed blocchi Come li chiamo io Sono blocchi Compressali Cioè sono proprio Blocchi Così Voilà Vedete È molto più facile Non so se posso farlo Ancora di più Ma non credo Cioè sì posso farlo Vediamo un po' Uh Ho detto Dove sono i miei Vabbè facciamo così Sì posso farlo Però È diventa delle extra utilities E ho paura che non funzioni Ma non posso smarmellarlo Con questo martello qui Vedete Non possiamo farlo Sir Che cosa Possiamo fare Possiamo fare Un botto di martelli Esatto signori Possiamo fare Un bottaccio Di martellacci Hammer Ok Con cui fare Poi Un Oddio Quasi 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 Non spreco La mia amica legna Ma vado a fare Un pochino di questi Eh Che ne dite Sbram 22 Vanno benissimo Ok Ne facciamo 11 Perfetto Uh E facciamo un Compressed Stone Hammer Che dovrebbe Permetterci di Risparmiare Non poco lavoro Vediamo Oh vedete Mi ha dato 9 Di Gravel Fantastico Quindi io che faccio Invece di piazzare 150.000 Di Gobleston Ne piazzo Molta di meno Questi 30 40 Quanti sono Uso la Urscavating Bam E ottengo Una marerma Di Gravels Che poi vado A cicciottare Qui dentro Giusto Cicciottiamola Dunque Andiamo a prendere Un altro po' Di Legno Thank you Spero che ci abbasti Questo lagno Perché Voglio Altre 6 9 Vediamo un po' Si evesh Molto bene Yes Posso farlo Perfetto Ne ho fatte Ne ho fatte Ne ho fatte Ne ho fatte 2 Quindi 7 Bam 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 Ci andiamo a mettere Gli altri String mesh E ragazzotti Possiamo farmare I nostri materiali Ho dimenticato Una string mesh Sorry E possiamo Dicevo Farmare i nostri materiali Abbastanza In maniera In maniera Abbastanza veloce Ci sono metodi Più veloce Possiamo fare Questo addirittura Che Livi E significa Invece di metterci Questi Cioè Invece di mettere La roba dentro Questa Andiamo a mettere La roba Compressata Dentro questi Ok Guardate qua Che facilità Di ottenimento Ovviamente Livi ce ne avete più Quindi io semplicemente L'ho fatto Per farvelo vedere Questo qui Posso Come al solito Togliamo sta robetta Andare a Compressare La gravel Eccola qua Compressed gravel E metterla dentro Un ivi Ottenendo un sacco Di vantaggio In termini di velocità Perché è 9 volte più veloce E di spazio Perché è 9 volte più piccolo Ed infatti C'è anche la quest Che ce lo consiglia Sebbene Ci ricordi Che non possiamo Metterne altre Vicine Perché se non sbaglio 9 era un massimale Ma Dovremmo Dovremmo poter Metterne di più Voglio soltanto Come curiosità Personale Andare a vedere Oppela Ed oppela Forse mi sa Che arriva Anche a 12 Non che io ci abbia mai provato Perché sinceramente Vediamo un po' Zun 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 Sos Abbiamo Abbiamo Scusate Abbiamo finito La gravel Dobbiamo averne Un numero maggiore Perché altrimenti Vediamo Oh yes Signori oh yes Quindi o preferite questo Oppure Vi Cioè Ce lo facciamo Perché Perché si Perché è importante Farcelo Oppela Oppela Oppure andiamo a fare Un eavi Ok D'accordo Ricordandoci che Non possiamo Metterlo vicino Di solito Io vi consiglio Di tenere Che cacchie ne so La roba Visto che i mesh Li paghi All'inizio C'hai il mesh Marcio Ma poi Il mesh Più importante Mesh si fa col diamante Con tutte cose Eccole qua Ok Visco Che paura Brutto schifoso Marcio Vi consiglio Di fare un heavy Hawk Per I mesh avanzati O preziosi Che non potete Ancora spammare E invece questi altri Tenetevi Quelli Quelli marci Io in questo caso Lo faccio Soltanto per la mia quest Oppela Che dovrebbe Avermi visto Perfetto Dammi qualcosa di buono Il simple So mill Ma tutta roba Che va energia Non mi potresti da Che ne so Tipo Non lo so Qualcosa di interessante Boh Vabbè Quindi noi possiamo mettere Le compresse Oh yes Qui dentro E se devi ottenere I frutti Di nove Meravigliosi Tiè guarda come lavoro Guarda Oddio Che cazzo c'ho A posto degli occhi Wtf H No Mi ricorda qualcosa Tutto questo Sicuramente voi Avete più La memoria più lunga Della mia Vabbè Mi metto a sbisciare Ok Forse esagerato Non vanno bene Questi Ragazzi Non vanno bene State attenti Effettivamente Qui magari ci mettiamo Che ne so Tipo un Cubo Così evitiamo Che vengono A ucciderci casa Anche in questo caso Possiamo fare la Compressed Io sto un pochino Divertendovi Nel Devo ammetterlo Nel grinding Marcio Quello proprio Schifosissimo Sbrata sbrem Non credo che Queste qui funzioni Cioè possiamo pure Provare ma Ne dubito fortemente Andiamo a vedere Se Se le hanno Implementate Ma No E infatti E infattissimo Andiamo a posizionare Ah no 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 Questa è la Compressed Gravel Io in realtà Non la volevo Sbrindellare Perché trovo molto più veloce Fare questo Quindi Questa qui La spacchettiamo Molto comoda Anche per quanto riguarda L'inventario E come potete vedere Non tutto Non tutti i Siavas Funzionano Quindi questi qui In realtà Li possiamo pure togliere Un giorno che non piove tanto Mamma mia Quanto è lento Sto piccone Vabbè Detto ciò Per chi non fosse Avvezzo Alle Sky Factory Che cosa stiamo Facendo Perché effettivamente Voi dite Ma che Ci danno dei materiali Questi materiali Si possono Rimpacchettizzare In dei blocchi Che poi possono essere Rimartellizzati Per ottenere Una piccola percentuale In più Di quei materiali Che possono essere Ripacchettizzati Così per tre volte Fino a quando Non ti rompi la minchia Io ho visto Ho fatto troppe Sky Factory Già mi sono rotta la minchia Direi che Non Non andremo A usare Questo procedimento Caro albero Ti devo spostare Sei un po' In mezzo Appunto A quella che abbiamo Appena rotto Quindi Adesso possiamo Permetterci di mettere Il nostro Iron ore No Scusate Detto una scemenza Possiamo fare Il nostro Iron ore Chunk Eccolo qui Meraviglioso Cuocquerlo Ah E ragazzotti Avere finalmente Il ferroferrone Ma quanto Siamo Super bellissimi E mi piace pure Questa parte Adesso Vi posso assicurare Che quando ci servirà Un singolo Pezzo di Che ne so Di redstone Ne dovremo stare A setacciare Per ore Non ci piacerà più Che lo posso assicurare Perché Bene 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 Vediamo che ci dice La nostra quest Allora Lock Crucible D'accordo Per fare la clay Ah La clay Ecco Questo è interessante Perché Il crucible La clay Nel crucible Wait What Wait What Uh Otteniamo l'acqua Dai frutti Della natura Questa cosa è molto interessante Molto interessante Una bella meccanica cambiata Perché Effettivamente L'acqua qui È difficile Che possa piovere No Anzi È abbastanza improbabile Allora Andiamo a prendere questo Andiamo a prendere Una Slabbina E facciamo Così E ci facciamo Lock Crucible Allora Non credo che Lock Crucible Vada Senti Un momento qui Sta da panico Qui Vada cotto Credo che ci vada messo Soltanto dentro Sta robetta Perfetto E signori Come potete vedere Sta Liquefando Sta distraendo Possiamo dirla così La sostanza Accusa Dalle foglie Ora Visto che abbiamo Troppato degli Hopper Che non sono una grande Record ma Neanche fa schifo Schifo Io ci metterei qui I miei Hawk Sapling Nel dubbio Non li prendi Sembra non Prenderli Sembra non Piacerli Ai 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 Se faccio un figlio Come mais Come mais Ah no Non li prende proprio Boh È in un momento Catartico Non lo sappiamo L'importante è Non metterli tutti Perché se no Rimanete senza I maledetti Alberi E finite Cioè avete finito Non è che ci stanno Tanti cacchi Se finite gli alberi Io sto un po' Accorto con il cibo Però chi se ne frega Cioè nel senso Cioè davvero No seriamente Chi se ne frega Non se moriamo Rinasciamo qua Quindi pace fatta Andiamo a piazzare Un pochino di queste Sarebbe davvero bellissimo Un generatore di corrente Caro No eh Va bene va bene Ce lo ricorderemo Ce lo ricorderemo Quindi vado a fare Anche in questo caso Le lead Mi fanno vedere le cose vecchie Che figata La Che cos'è questo L'osmium D'accordo L'alluminio Altro iron Del coperissimo Che non ci fa male Il tintin E basta Il tintin Cosa abbastanza fondamentale Come potrete vedere Non c'è la redstone La redstone è molto importante Quindi dobbiamo andare A sbrindellare Mortacci tua Dobbiamo andare a sbrindellare L'iron mesh Ok Ci serve quindi il flint Il flint si fa così Possiamo trasformarlo E poi Col ferro che stiamo facendo Lo trasformeremo Quindi tutte queste Diverranno Diverranno dei iron Poi è opportuno Che ve le facciate Uno un po' Si di quello Un po' di quell'altro Un po' di quell'altro Ancora Detto ciò Io vado a depositare I miei cicci cicci Qui Che bello Poter cuocere Le Ma tutto stoccol Wait Da 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 Ah Mi l'ha dato Grande Grandissimo Grandissimissimo Non me ne era accorto Te lo da Il setacciamento Ragazzi scusate Sono un po' Un po' Un po' Un po' Rigoglionito Quindi possiamo Togliere questo E metterci il collo Perfetto E un'altra cosa Abbastanza importante Da fare Almeno secondo me È prendere Sbrindellare Questa Compressed Gravel In Ottima Tutto Tutto Dirtolo Ok E andare A sedacciare La dirt Perché la dirt Ci dà Un sacco di sementi E i sementi Sono buoni Perché Perché così Non moriamo De fame D'accordo Poi possiamo Piantare altri alberi Qui si è buggato Tutto quanto All'improvviso Ci dà La stone Beh questi qui Sono abbastanza inutili Potevano toglierli Sugar cane Grass seed Potatoes Grass seed Utili Per trovare gli animali Carrots Pumpkins E Seed Quindi direi Che ci facciamo Un bell'orto Lo facciamo Uh guardate Sì direi abbiamo l'acqua Oh yes E visto che abbiamo Il ferro Oppela Possiamo andare A fare Il nostro Ortolo Let's go Ricordate sempre Miei cari Che Il pack È vostro amico Quindi magari Lui non ve lo dice Però se voi scrivete Amber Vi ricordate che Una volta Nella vita C'era Un In realtà Molti ragazzi Che mi dicono Ma come fai A capirci qualcosa Come fai a ricordarti tutto Io non mi ricordo Assolutamente niente Io ho un vago sentore Adesso vi spiego come Secondo me Uno si deve approcciare Ai modpack Di Minecraft Allora Ho giocato una volta A un modpack Con un martello E quel martello Scavava 3x3 D'accordo? Bene Che faccio? Vado a vedere Se ci stanno dei martelli Ok Questo lo posso fare? No Ok Questo Non credo di avere ancora la lava Questo Oh caspita Questo qui Si fa con il crafting table normale D'accordo Allora forse Trovo quello di ferro Dove sta? Eccolo qua Questo è di Invar Dove sta? Merda Eccolo qui Quindi Ragazzi Faccio questo Sprego i miei materiali Perché Li investo E poi vado a vedere E faccio Oh mio dio Scava velocissimo E scava 3x3 Quindi risparmio Un sacco di tempo Un sacco di grinding Un sacco Di un sacco Di un sacco di cose Ragazzi così si gioca Non vi imputtanate Nell'anei In maniera Cioè Non andate a Slegata Che ne so Tipo Allora per fare Ah si Per fare questo Serve liquid xp No No Serve per ripararlo Ok Non vi fidate troppo Della nei Fidatevi di quello Che avete già visto Ah una volta Ho visto una serie In cui c'era un tizio Che volava Ah si Ok Mi serve volare Ah si Scriviamo jetpack Ok Vediamo un po' Jetpack Mechanize Sembra complicata Jetpack Della project expansion Mai sentita prima Per cui c'è il battery box Vediamo un po' Conductive iron Conductive iron Mi sembra qualcosa Che si lega all'iron E sembra abbastanza facile Da craftare Andiamo a vedere Bam bra bam 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 Si mette dentro sto macchinario Reston e iron E ottieni Capito? Cioè ci si può arrivare Ci si deve arrivare Ci si può arrivare Poi ovviamente Che con La Con molto gioco Si ottengono molte conoscenze Questo è indubbiamente vero Però L'unica Mod Secondo me Inconcepibilmente Complicata E' una mod Che tanto non mettono In nessun pacchetto Ed è una che porta L'elettricità vera Cioè devi essere Ingegnere Informato Ingegnere Elettrico Per Per giocare con la mod Però fortunatamente Nessuno Se l'è mai cagata E spero che nessuno Mai mi chiederà Di giocare con la mod Aiuto Se vi dovessero Servire I miei cari ragazzi Dei Ehm Dei Sapling Yes Vi basta Semplicemente Smasciare Con un bel croc Le foglie E basta Considerate che però Lord Cavating Vi chiede un bel sacrificio In cibo Come potete vedere Sto morendo Io ho detto che mi sarei Suscitato Però mi da fastidio Quindi andiamo Andiamo a mangiare Farò Farò a cagare BAM Ma comunque adesso Abbiamo un po' Di sapling Abbiamo l'acqua infinita Abbiamo il nostro martellino Che non dura Quasi niente 500 usi Diviso 9 Sono davvero pochi Però Non è accio Non è accio Ehm Vediamo se funziona Che discrimina Stai Stai discriminando? Yes Ok Fantastico Qui vorrei allargarmi Effettivamente Mettiamo un altro po' Di Ottimo orto E voilà Lì ci sono Andiamo a posizionare La nostra Dirt E ragazzi Ci siamo Abbiamo l'orto Quindi dovremo risolvere Le nostre problematiche Alimentari Almeno se spera Oppela Quindi Direi Un bel campo di grano Ma che ne sai Tu di un campo di grano Oppela Thank you Mi ha dato anche un Coso Abbiamo il grass seed Che ce lo teniamo Per la prossima volta Meloni E Pumpkins Allora io un pumpkin Se lo pianto Qui magari Però è il melone Che mi dà il cibo Quindi effettivamente Qui pianto un altro Melons Poi che altro abbiamo ottenuto Niente Basta Così poco Non abbiamo ottenuto Che ne so I cactus Abbiamo ottenuto soltanto Ste sugar canne E vabbè Allora facciamo così Oppela Facciamo così Oppela Facciamo così Facciamo Facciamo così E voilà Signori Abbiamo anche Le sugar canne Molto 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 bene Ehm Qui ci mettiamo un altro Meloncino Buono Ok Let's go Let's go dude Andiamo a vedere un po' Qui che mi chiede Qui mi chiede Di mettere la clay All'interno Non possiamo Non possiamo fare L'auto setaccio Ve lo dico Cercate di fare le cose Tecnologiche Quando ne avete Autonomia Se fate Le cose che richiedono 1000 rf E producete 20 rf Siete stronzi Non state andando A rushare un pack Come si deve Io rusho un pack Ok Adoro lo scavating Nei pack grindosi Meraviglia Una delle cose Che potremmo fare adesso È fare Una mob farm Visto che qui ragazzi È tutto cobblestone Le leggi di minecraft Dicono Che un mob Sponerà Con molta più probabilità Appena ce ne ha La possibilità No Quindi se io vado Quaggiù A 30 blocchi E faccio una costruzione Un buco nero Ok Come sui pensieri Là dentro Ci sponerà L'ira di dio Io però non conosco Il pack Non so se ci stanno I creeper E i tere E tutto quanto Quindi forse È meglio evitare Per adesso Poi Non lo so Cioè dico Magari lo facciamo Poi non lo so Allora Per fare la clay Ottimo direi Non so che cosa sia Questo rumore Che sentite Sono molto dispiaciuto Andiamo a smarmallare questo Che Ah no giusto Qui c'è un passaggio in più A questo punto Userò il martello normale Dov'è il mio martello Datemi un martello Cosa ci vuoi fare Lo voglio dare in testa A chi non mi va Vediamo un po' Perfetto Sabbia Che diventa Dust Dust to dust Se lo mettiamo Scusate Se Mi sono perso Se lo mettiamo All'interno di un Ah il crucible L'hanno cambiato Prima era il Coso di stone Vabbè comunque Adesso abbiamo L'acqua infinita Non è un problema Andiamo a metterlo qui Ok Tatatata E poi andiamo a fare così Ah Otteniamo la clay Ottimo direi Guardate che bella E ragazzi Mi dispiace Mi sa che È il mio nuovo telefono Che non so mettere in Silenzioso Detto ciò Abbiamo la nostra Amica clay Io questo qui A questo punto Lo spostolo Vieni qui Da moi E il nostro pacchetto Ci consiglia Di fare I don't know Di fare per l'appunto La La porcellana È porcellona La porcellana Ah ma io qui Devo prendere Delle cose Delle phantom face Non ci interessano Dei change cube Ci abbiamo 32 change cube Io voglio aprirli In questa puntata Giuro Li apro in questa puntata Giuri un giurello Spero Spero di riuscire ad aprirli In questa puntata Ho paura Ho paurissima Però se Se ci sono cose buone Dal mondo Non lo so Vabbè Detto ciò Abbiamo Dicevo la clay La clay possiamo rompere E otteniamo la clay rotta Fino a qui Tutto bene Per fare la porcellona Però Ovvero il crucible Che ci darà L'avola Ci serve per forza Questo La porcellane E ci serve il bombille Il bombille Lo otteniamo Al 10% Al 15% Al 20% E al 24% Però noi non abbiamo I diamanti Se sgrindiamo La dust Signori Visto che Di dust Dust to dust Io a questo punto Andrei a farne Un bel Poco Quindi Ripartiamo un attimo Dalla compressed cobblestone Ah tra l'altro Questo ci permetterà Se non ho visto male Se non ho visto male Di smetterla di fare Tutta questa roba Cioè nel senso Ah cobblestone Prima o poi finisce No? Ecco Noi non vogliamo che Ogni volta Metterci a fare Nuova cobblestone Non vogliamo Metterla a piazzare Quindi piano piano Ottimizzeremo anche Tutto questo Questo aspetto Senza piano piano Molto probabilmente Veloce veloce In realtà Tutto questo Dipendente però Dalla fame Regà Ve lo ricordo Ci abbiamo Il bisogno Di una fonte Di cibo Più importante E devo dire Che effettivamente Il bombillo Può essere Che ci dà una mano Ok? Perché se io adesso Faccio così Come potete vedere Ah no Questo era un massimo Ok si è rotto Minchia Signor tenente Wow Si è rotto Caspiterina Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Quindi l'unica Altra alternativa Per adesso Visto che non ho più Cobblestone Davvero non ho più Cobblestone Ma che sfiga Signori È di andare A smarbellarlo A fare la Dust Così E vabbè Non è vero Con un pochino Di pazienza Posso unire L'utile Al dilettevole Ovvero Ho recuperato Un bel po' Di cobblestone Facendo questa Strescia E quindi Rompendo di qua E contemporaneamente Ho ottenuto Uno spiazzo Dove far sponare I mobs Cioè non i mobs È brutti È i mobs È belli Guardate qua Allora andiamo a fare Sciupi Uuuuh Ragazzi Vi ricordate che vi ho detto Non mettete Cioè mettete sempre i sapling Ecco Guardate io Non metto Non metto mai i sapling Voglio Voglio uccidermi No davvero Seriamente Se non li metti Sei nella merda poi Cioè o devi Givarteli O hai perso Hai perso Tipo game over Va bene Detto ciò Allora sistemiamo Un altro po' Qui 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 Qua 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 Perfetto Ci stanno dei metodi Per far sponare i mostri Uno è vanilla I mob Scusate Gli animali Uno è vanilla Ed è abbastanza semplice Fai il grass Lo illumini Lontano Aspetti L'altro è moddato Con le baits Queste qui Ok Quindi se vuoi far sponare i chicken Semplicemente Metti una baits Metti dell'acqua Del grass Una fonte luminosa E lui piano piano Cioè dopo un po' Ti darà quello che cerchi Praticamente Che è un metodo abbastanza interessante È abbastanza interessante Allora In contemporanea A quello che stiamo dicendo Facciamo anche questo Perfetto Come potete vedere Ho tantissima dust E ho rotto il quarto Se non sbaglio Mamma mia Il quarto Compressed Ciccio ciccio Sono molto triste Ma vabbè Ho dovuto mangiare i cosi Ve lo dico Ho dovuto mangiare gli schifi I vermacci Marci Però danno un pochino più della mela Almeno per quanto riguarda la saturazione Due di questi Le buttiamo qui dentro E si va alla grande Allora Facciamo un pochino Di fence Che io non ricordo mai come si fanno Perché sono Vi giuro Ho messo silenzioso E boh sento la vibrazione Ma ho capito Allora sei strozzo Allora devo metterti che muori Non lo so Vuoi che io muoia Scandalo Ok Facciamo così E facciamo così E andiamo a prendere I nostri Sugar cane seed Oh ma ci amo le patate Ragazzi però non mettete niente Ci amo le patate Va bene Va bene Sono pronto Oh che paura Va va Fangulo va Perché se corri Spri Questo Che cazzo di paura Va bene D'accordo Allora mettiamo il cancelletto qui Molto good Andiamo a posizionare Il grass seed Qui E qui ragazzotti E piano piano Il nostro grass Con la luce della light Esploderà No non esploderà Farà le cose Qui Metto Le patate Qui metto Pronto Le carote E adesso possiamo Tornare a caccia Sistemarci un pochino L'inventario non è vero Sapete che È una menzogna Che dicono altre persone Che io mi sistemo L'inventario non è vero E andare finalmente A sbridelare Sta cavolo di dust Per ottenere Il meraviglioso Bombil Vi ricordo che È al 10% Quindi Non sarà tantissimissimo Però ne stiamo facendo Assai no Perché poi tra l'altro Non ne fa proprio precisamente Vedi così ne fa tanto E stai Oh E no Invece sì E no Oh eccolo Ho trovato Il punto Il punto G Nella nostra Non è vero Ogni tanto Vabbè come tutte Vediamo un po' 27 Ma siamo Ma siamo bravissimi Ma che dico bravissimi Siamo fenomenali Ragazzi 27 Ergo Avevamo la porcellona Giusto Eccola qua Possiamo fare Scusate Clay Più Questo Facciamo La porcellona La porcellona Facciamo Il Lanfire Crucible Lo cuociamo E ci possiamo mettere Sotto una torcia Considerate che Questo ciccio ciccio Smelta La La cobblestone O altri materiali In lava Ok In base A quello che Gli mettete sotto Noi adesso Ci abbiamo Soltanto questa Quindi Povera torcina Ti prego Fai il tuo duro lavoro Come potete vedere Il rate è 1 Ovviamente ci vuole Un pochino più Di uno stack Quindi Ritorniamo a prendere I nostri amici Hopper Hopper Vediamo che succede Perfetto Entra dentro E piano piano Si smelterà Della lava Lava che ci serve Per fare il Vediamo se c'è Yes Il cobblestone generator Signori Che ci produrrà Cobblestone all'infinito E noi non dovremo Più fare niente Ha 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 Bene Ragazzotti Ho farmato abbastanza Ho dato anche Una cisellata a casa Così Che vuoi Vanillare i maledetti Vi sembri più Cioè non lo so L'ho fatta a casa Spero che Sia un pochino più carina Della stone E basta Visto che diventa Stone brick Con una sola Botta di cisell Molto bene Ho fatto altre chest Qui Qui vedo che la simbidria Non è rispettata Ma la sistemeremo Successivamente Tu Non ci servi Purtroppo Allora abbiamo La dust Cioè in realtà Dovremmo avere La lava Uh yes Abbiamo la lava Perfetto Però per fare il Cobblestone gen Come vedete Qui Viene qua Uh non serve la redstone Davvero Davvero Ma cosa mi dici mai Davvero Fantastico Quindi io posso Prendere questo Fare così Ottenere un po' di sand Metterla dentro Una fornacia Signora fornacia Molto bene Vada Allora intanto Visto che Che ci stavo Ho suddiviso Questi cicci cicci In quattro Cioè ne ho fatti Praticamente Nove Nove per quattro Visto che esistono Quattro Mesh Ora io potrei Anche effettivamente No effettivamente Come avevo detto Prima Regà È molto meglio L'altro metodo Cioè nel senso Quando non puoi Spammare Unisciti a loro Giusto Quindi invece di fare Così Andiamo a fare Gli ivi E ne facciamo Uno soltanto Che però Andiamo Giusto Bravo Bravi 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 Ottimizzazione Quindi questi qui Si fanno Così Giusto Dimmi ti prego Che ci abbiamo Quasi tutto Non ci abbiamo Quasi tutto Ok però Qui c'ho la Legnola Quindi posso fare Oh mio dio C'è un crafting Facilitato Vi amo Ecco questo È il bello Del moddato Ce ne bastano Tre Molto good Poi dobbiamo Trasformare Queste string In il primo livello Ovvero le string Mesh Oppure Ah no Poi c'è un successivo Perfetto Quindi le faccio tutte Tutte tre Giusto Una rimane string L'altra diventa di forro Stamano può essere ferro O può essere piuma Molto fine E mi sono perso Dov'è finita l'altra Scusate Ah eccola Scusate E l'altra non la possiamo fare Perché ci voglio Le davanti E le davanti Si ottengono Solo con la gravel Nell'iron stiffed Ok Tra l'altro ho visto Altre cose interessanti Ma va bene Quindi andiamo a mettere Questo qui E questo qui E questo qui Però Cioè per adesso Ci possiamo mettere Soltanto questo Sentite un rumore Bruttissimo Incredibilissimo Ed ecco qui I nuovi ciccicci Quindi oggettivamente Qui ho sprecato Ops Ho sprecato Soltanto legna Ma a chi se ne frega Tanto la possiamo Ci faremo gli autosives Quando potremo Perfetto Quindi adesso Io che ho Fatto un botto Di dust Per la porcellona Posso andare a prendere La compressed Dust Ciccia ciccia E ottenere La redstone Perfetto Al 15% Neanche male Nell'iron stiff Vedete Purtroppo 9 alla volta E lo so E lo so Quando potremo fare Ci avremo tanto ferro Allora potremo Spammarle Prima Però adesso no Sono molto sad Però ho già visto Della robetta interessante Abbiamo le redstone Signori Oh yes Redstone Importante Ovviamente Per tutte le cose Che riguardano L'inizio Guardate la roba Sbram Oh my god Oh Super nice Super nice Very good Dicevo Importante Per tutta la roba Che riguarda La tecnologia Portami via Quindi per adesso Riprazziamo questo E riprazziamo questi Con queste qui Non so quando Vi serviranno ancora Però probabilmente Si In realtà Probabilmente Queste vi serviranno Per fare Per farmare Con la gravel Un altro po' di ferro Listo E già l'ho finito A forza di far martelli Bene Signori Direi che Con questo Ci siamo Cioè con Con tutto questo Ci siamo Si Andiamo a prendere La lava Perfetto Abbiamo anche Cioè Ma che bravi Che siamo Poi di qua Dovrei avere Il mio secchiello D'acqua E guys Dovremmo avere Yes Il cobblestone generator Ci dà anche i secchielli Ma che caro Uh E possiamo fare Il tier 2 Che ci da 64 blocchi E ne fa Uno Ogni 20 tick Quindi uno al secondo Se non sbaglio Mentre questo Ne faceva Uno ogni 40 Uno ogni 2 secondi Lo facciamo E magari Vi faccio Vi tiro fuori dal cilindro I barrel Vediamo un po' I java barrels Visto che ho visto Che non c'è Visto che ho visto Che non ci stanno Altri barrel A parte quelli Dell'immersive Andiamo a prendere Una slabina Ce l'abbiamo Però il mio inventario È sempre pieno E Voilà Vi ricordate Che avevamo trovato I diamond Ciccio ciccio I diamond Oh scusi Upgrade Eccoli qua Dovrebbero aumentare Il numero Di questi cicci cicci Allora Se io adesso Lo mettessi qui Facciamo finta così Ok Tu quanto porti Non lo sappiamo Se ci metto questi dentro Non funziona Se ci metto questo vicino Quanto fanno cagare I cosi della jabba Pronto? No dai Non ce lo posso Ce lo devo Ce lo devo Ma a mano Dai Che brutto Mentre tecnicamente Questo qui Con una chest Dovrebbe Funzionare alla grande Vediamo Adesso non si apre Perché la chest Pseudo vanilla Ah no Ah no Scusate Ho fatto una gaff Va tirato fuori Ragazzi Perdonate Quindi Hopper A questo punto E Vabbè È brutto Però mettiamocelo Facciamo così Facciamo così E facciamo così Dai Oh Eccola qua Signori La nostra farm Di cobblestone Incredibile Senza dover fare Generatori marci Vanilla Senza dover andare lì A scavare Farm di cobblestone Pam Fine Stops Se avessimo Che cacchio Una crafting Station Non so Non credo Uncrafting grid Workbench Autocrafting bench Però questa qui va a energia Sono molto sad La crafting station Eccola qua Vuole l'RF Tools Non so che cacchio sia Sa roba Va bene Avremmo potuto Cioè Potremmo craftare Che ne so La cobblestone Compressa La faremo a mano Per adesso Finalmente del cibo Madonna Madonnina Ma come andiamo Finalmente del cibo Del pumpkins Molto bene Del patatame Mi scusi Buon salve Qui abbiamo un altro po' di questo Io ho messo il coso Mi sono spaventato tantissimo E invece Ho semplicemente messo il ciccio Posso toglierla? Sì grazie Abbiamo il carotame Finalmente Possiamo mangiare ragazzi Una dieta un pochino più variegata Ma vi ricordo Che se facciamo così Otteniamo il pig bait Ok? Se facciamo Aspettate che è libero Questo inventario marcio Oppela Pig bait viene a me Yep Se andiamo invece a fare Con il grano Hop e hop Otteniamo Il Scusate Bait Ho fatto una Aha Il cubait E il cubait è interessante Perché questo pack Mi pare di aver capito Che ci sono le buche fluide Quindi Andiamo a prendere questo L'ottimo bon meal E facciamo così Perfetto Oh yes E ne facciamo No Oh mio dio Ho fatto la farina Eh lo sapevo Eh lo sapevo Al fornaio Sono un maledetto fornaio Ragazzi Ok E Col patatame Abbiamo detto Col carotame Che facciamo? No aspetta Con questo qui Non facciamo niente Giusto Sono molto sad Mentre quei seed Eccoli qua Dovremmo evocare le galline Galline che anche in questo pack Sono strane Ok? Bene ragazzotti Allora io direi Di fare Questo Perfetto Andare qui Guardate il grass Intanto Che meraviglia Andare a piazzare Le nostre bait E ci dice Che Right click Per più Non c'è l'acqua Non c'è l'acqua Perché l'animale Giunge soltanto Se c'è l'acqua Quindi noi mettiamo l'acqua Vediamo qual è il problema Funzionerà Perfetto Però dobbiamo allontanarci Altrimenti L'animale ci spaventa Ora non so perché ho fatto questo Ma quello che volevo fare È mettere una Perfetto Non mettetene troppo vicine Perché se no Succede un patacrocchio Non c'è l'acqua Come potete vedere Anche in questo caso Ce lo dice Andiamo a fare così Perfetto Ci allontaniamo E io direi Che aspettiamo di sponare Un pochino di animale E poi come prima puntata Niente male In realtà Ci stanno un altro Pochino di cose da fare Perché ho dato un'occhiata All'anei E Ragazzi Guardate qui La fluid tank È disponibile Questa è una Eredità della Spacecraft Quindi Oh Ho finito il ferro Wow Mio Dio Ho finito Davvero Ho finito l'iron Minchia Signor Tenente Che Che storia Teribile Regà Teribile Guardate qua Dovevo fare questo Ma mi serve Mi serve un pochino Di gravels Un pochino di ferro Madre Allora lo vado Lo vado a fare successivamente Quello che volevo farvi vedere Giusto adesso Nell'immediato Un altro Metodo di Vedete ho tolto Gli alberi Per evitare Che Il troppo grinding Il troppo farming È molto carino Secondo me Un pochino lento Quindi secondo me L'ideale è spammarlo Si tratta Dei bonsai 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 che abbiamo trovato Nella Seftec Sono belle scime Eccoli qua Si fanno con i brick O per la ne fai soltanto uno Con questi Cinque bricks E se vuoi Ci puoi mettere Un hopper sotto Che significa Significa che Così Ce lo devi tirare fuori Così Ce lo mette dentro lui D'accordo? Molto 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 bene Ovviamente l'hopper Costa ferro Quindi decidete voi Il da farsi Cosa fa il bonsai hopper? Cosa fa? Semplicemente Tu ci metti Un bel sapling Sopra Ok? Ah prima ci dobbiamo mettere Del dirt Scusami Ecco fatto Vai Alla grande E lui lentamente Guardate un po' Crescerà Farà crescere un piccolo alberello Davvero davvero Super carina come mod Vi evita di dover fare Oh Le mucche Signori le mucche E invece quella delle galline È fallita? Ciao ciccia Come sta? No Ah ci sono troppi animali Vi spiego Non possiamo Non possiamo tenere qui gli animali Se li vogliamo far sponare qui Dobbiamo allontanarli Ok? Perché se no Sono troppo spaventati Vabbè L'albero è cresciuto E ci darà un frutto Un reward Normalmente Io adesso ci stanno così tanti maledetti alberi Perché vedo che c'è la pamba Barmester In quale maledizione di mondo qualcuno voglia mettere Cioè Ma perché? Ma perché? C'è al 75% la possibilità di avere un Hawkwood E tutto il resto delle cose Ovviamente se l'albero è da frutto Viene da sé Che te dà pure i frutti ragazzi Ovviamente Volete più legna Eh bisogna spammarne di più Quindi Semplicemente Fai così Ne fai due Ok? Sacrifichi Degli Hopper Alla causa O perché? Ho finito Quindi Per adesso Per adesso Devo fare più Più dell'ottimo ferro Però così vi evitate Di Come dire Smarmarlarvi le palle Col prendere la legna Eccola qua La legna arriva direttamente da voi Bene 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 Ho grindato un po' di ferrozzo Il problema è che è sempre poco Tra l'altro Grindando questi qui Compressed gravel Nel Ciccio ciccio Ottieni anche Il ruby della project red Diciamo le gemme Potresti ottenere anche i diamanti Non li ho ottenuti Ma vabbè Ma poi ottieni anche Cioè ci sta anche la towncraft Ragazzi Io spero che sia In maniera marginale Perché secondo me In un pack del genere La towncraft Non c'entra Davvero Davvero niente Ha proprio Zero Zero carbonella Però Noi staremo a vedere Ora io Il mio libro l'ho un pochino lisciato Dai Dacci qualcosa di buono Ti prego Sempre Gli octatic Ok Mechanical crafter Wow Di che mod sei? Di che mod sei? Dell'extra otiridis Uh Vuole la grid No ragazzi Il mechanical crafter Ma vi rendete conto? Possiamo craftare in automatico le cose Cioè possiamo mettere Che cacchio Oh guardate Minchia signor tenente Guardate la roba Gli possiamo dire Tipo fai così? Vediamo Yes Oh Ma funziona in automatico Funziona senza energia Oddio aiutatevi No mi vengono in mente tutte le cose che potrei fare adesso Però Non credo di avere Credo che questa puntata sia stata lunghissima Va bene No va bene Lasciamo perdere Cioè Capitevi Adesso ti si apre un mondo Perché C'hai una piccola Un piccolo autocraftico Comunque Se facessimo il mio amico Fo 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 Tank Questa tank qua Dell'enderaio È bellissima Perché non soltanto Tiene e ti fa vedere gli oggetti Ma li prende dagli inventari adiacenti Cioè gli oggetti Scusate i fluidi Quindi se io gli dico Ciccio ciccio Prendi da qua sotto Guardate qua Lui prende la lava Ragazzi Strepitoso Quindi tecnicamente In realtà Se noi Togliessimo questo Oppela che adesso di cobblestone Ce l'abbiamo un pochettino E la mettessimo Non so se la va a mettere direttamente dentro Vediamo se la fa Ah no Avevamo detto che non la Non la fa in automatico Giusto Se la mettiamo qui Adesso come potete vedere Dal numero qua sopra La lava sta Salendo Yes Perfetto La cobblestone Scusate sta salendo E la lava verrà prodotta Quindi diciamo che se Ah ovviamente io posso fare così Scusate perché sto sulla Su un altro pianeta Con le possibilità Se andiamo a Fa 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 Cercare Marcus L'inventario Ecco Se andiamo a mettere A prendere questa lava qui E la mettiamo al posto Di questa torcina Che ci dava un Soltanto uno di speed Adesso dovremo vedere Adesso dovremo vedere Ah ah Tre Tre volte più veloce No Quindi se noi riuscissimo a portare Questa cobblestone generator Il risultato di questa cobblestone generator Con Delle Degli oggetti Degli utensili Dei cavi Ah mi giusto prendo fuoco All'interno di tanti crucible Con sotto la lava Potremmo ottenere tantissima lava Che ci fammo con la Oh Oh salve Una gallaina Ciao gallaina Ma Va bene Va bene Dopo qui devo chiudere Che ci facciamo con la lava Boh Non lo so Cioè nel senso Non conosco il pack Quindi non sappiamo dove Non so dove voglio andare a parare Ah beh Sì La smeltery Giustamente E qui possiamo fare Lo stone barrel Che ci tiene i fluidi Non me ne pippa assolutamente niente Se ci mettiamo dentro Giustamente Con le ancient sport Possiamo fare le La cosa Come si chiama ragazzi La Quella roba che non esce in vanilla Però è vanilla La mushroom island Il michelium Sorry E l'acqua diventa Wicked Wicked water In cui possiamo buttare Nei mostri Per trasformarli All'interno del fluid crafting Possiamo ottenere Ah Nuovi Nuovi mob E poi possiamo ottenere La netherrack Buttandoci Cos'è il biome marker Bello Bellissimo Dai io però Queste cose Me le lascio Per la puntata Proprio prossima Perché se no Sto lasciando Troppissimamente Questo pack Quello che voglio Finire Con voi È Per l'appunto Andare A vedere La mining dimension Quindi Io Vado Vado laggiù Cari amici Mancano dieci blocchi Io devo ammettere Che questa distanza Se dove è eccessiva E me so Già abbastanza Frantumato Le balle Sono tornato indietro Perché non avevo preso Il piecone di ferro Quindi E tra l'altro L'hanno preso Neanche il cibo Sono molto molto tristo Ok Ci siamo quasi Se non è bellissima Stamani in dimension Guarda Che io potrei Ripare giù A farmare Con uno schifoso Però Sono curio Oh Ok Ok È stato Veloce È stato pick Sky factory Wait what Bronda Ok Dove siamo Mortacci tua Mortacci Non capisco Dove siamo Siamo ad altezza Bascia 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 Cioè Nel senso Scusatemi Oh Ok Capisco molte cose Quindi se io tocco Questa parete qua No What Wait Ah devo dargli una testata Se io do la testata La parete La parete Viene testata Se scendo da qua Giustamente Incontro Pasquale Va bene Va benissimo Uh Ah 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 Beh ragazzi Io volevo salustrar qua Ma penso che Ah 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 Ok Ok D'accordo Va benissimo Signori che botta De culo Si può dire culo Eh Che botta Incredibile Allora io Non penso che Continuerò Tanto in questa dimensione Mi faccio un giro Penso di stare a livello Proprio diamante Quindi Magari troveremo Soltanto un po' di diamanti Un po' di rezz Ecco la rezz Non è che ci serve Molto bene Molto bene Non ho idea di che cosa possiamo trovare Non ho idea Se qui sporano i posti Oppure no Attenzione Del Certus Quartz Ma certus Molto bene Quindi Questa è una dimensione Scavereccia Guys Io spero di no Er tralasciato Nessun dettaglione Tranne ecco Il portarvi un piccone Un pochino più decente Magari la prossima volta La mappa Non la capisco Vedo delle cose Muoversi Quindi Presupo che siano dei mob Io Me ne torno a casetta E ve la preparo Per la prossima puntata Che ci sarà Domenica prossima Quindi se vi piace Questa serie Che l'indosa E con molti Molti contenuti Mi raccomando Fatelo sapere Con un bel Mi piacione Oppela E con Magari Un commentino Tipo Sapete Le cose Alle persone Leggere Gli apprezzamenti E' incredibile Lo so Vi dico Una breaking news Però Le apprezzano Giuro Davvero Comunque 200 blocchi E' tantissimo Io farò una scala Perché Anche perché qui C'è Stingate 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 A salire Ti smarmelli Le palle Ma proprio Tanto E qui Di Vesallustro Io e l'occhietto Frasico Che mi ritrovo E speriamo passi Le mie mucche Stanno crescendo Faremo C'è C'è Quella mod Delle mucche Delle galline Delle cose Bene 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 Che quanto Cacchio è grindoso Sto pack Vabbè Non so Come faccio A piacervi Nel senso Io mi diverto Perché Perché Mi sento Proprio Tipo Molto poco Modestamente Una persona Molto Avvezza A questi pack Signori È stato Un piacerone Davvero Fatemi sapere Che cosa Ne pensate Nei commenti E soprattutto Ditemi Perché io Ho registrato Tre ore Quattro ore Non lo so Di puntata E non so Come vi Vi verrà Fuori Quindi Spero Vi piaccia Bella Regà Ciao Piazza del blocco Pezzo di fango Ok Ciao 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 Ciao